Questa è la festa della Madonna del Rosario nella città antica di Pavermo. Siamo nel centro storico, in vicinanza di Roma. Questa è la chiesa di San Domenico, la chiesa dei Domenicani. Qui c'è l'oratorio del Rosario. Abbiamo fatto un giro con la strada proprio fin davanti all'oratorio del Rosario. Adesso stiamo risalendo la stradina. Il piazza scorre sulle ruote. Solo nella piazza, ai quattro canti, viene portato sulle spalle e viene fatto girare. Questa è la chiesa. Questa è la chiesa. E qui siamo a ridosso della cuccheria. Qui dietro c'era il mercato della cuccheria. Poi è stato sospeso. Qui dietro c'era il mercato della cuccheria. 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 Maestro che cosa rappresenta la Madonna del Santissimo Rosario? No, il santo chi è? San Domenico, la Madonna Rosario è San Domenico, la Madonna Rosario è quella di Bonvercio, è San Domenico. E che stanno facendo? Lei gli dà... Dico, che stanno facendo in questo momento? La Madonna gli dà i Rosario a San Domenico? Com'è la rappresentazione di questo... Eh, è la Madonna del Santissimo Rosario, è San Domenico. E se non dev'essi volante, ci dov'essi volante anche Santa Catarina, che non c'è. San Domenico e Santa Catarina, che agli attori li chiamano la Madonna del Rosario. E come c'è il collegamento, San Domenico e la Madonna di Rosario? Come mai c'è questo collegamento storico? E' sempre stata la Madonna dei Domenicani? Ah, è la Madonna dei Domenicani? Questa signora dice... La Madonna dei Rosario è la Madonna dei Frati Domenicani? O no, è casuale. Sì, è la Madonna dei Domenicani, tanto vero che è San Domenico quello. La Madonna a cui osservano Rosario e San Domenico. Grazie. 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 Sì, no, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.